Parco Urbano di Fano ormai è una realtà, è solo una questione di tempo, vederlo realizzato nella sua interezza. Questa mattina, taglio del nastro e cerimonia ufficiale nell'area giochi allestita nel primo lotto, realizzato con una spesa di 170.000 euro e che ha fatto, diciamo così per dire, da posa della prima pietra. Presenti alla cerimonia, visibilmente emozionati, tutti i protagonisti di questa lunga vicenda di un decennio, ma di cui se ne parla e discute da oltre 30 anni. Assessori, associazioni locali, tecnici e funzionari del comune, come l'architetto Giangolini, che ne ha seguito tutto l'iter fino ai giorni nostri e che seguirà anche tutti i cantieri per la realizzazione dei prossimi stralci. Ed il sindaco Massimo Seri, che mise nel suo programma elettorale la realizzazione del parco fin dal primo mandato. È un parco per tutti i cittadini, per tutta la città, quindi veramente un grande risultato. E anche oggi mi sento di ricordare anche una figura straordinaria, bella, che per il parco si è dedicato molto, come Lucio Polverari, a cui è dedicato il parco. Perché se il Bartolaggio e le tante associazioni nel percorso di questi lunghi anni non avessero mantenuto sempre vivo alto l'interesse, forse oggi non saremo qua. Quest'anno si è partiti dai più piccoli e dalle mamme, ma i prossimi step nel 2020, con un finanziamento di 600 mila euro, riguarderanno la realizzazione di altri due stralci. Si parte davvero, come si diceva, si parte perché vogliamo fare in fretta anche il secondo al trasostralcio. La prima cosa è che vorremmo recuperare l'ex casa del custode, che diventerà la nuova casa del parco. E poi vorremmo continuare questo percorso che abbiamo creato, recuperando zone alla fruizione pubblica e quindi non dimenticandoci di quello che c'era. E quindi ricalcheremo gli stessi percorsi che ci sono, ma vogliamo aprire la parte del campo d'aviazione, del nuovo parco del campo d'aviazione, verso il quartiere Vallato, con un percorso, con un playground che renda anche quella parte disponibile. Ma questa giornata è la riprova concreta per qualcuno che i sogni si realizzano, soprattutto quelli che hanno una forte valenza sociale e civile. Un parco dove abbiano spazio sicuramente la natura, l'ecologia, un polmone verde per l'ambiente della città, ma anche e soprattutto uno spazio di socialità. Una seconda piazza della città dove i bambini, le famiglie, i giovani, gli anziani possono vivere durante la giornata i loro momenti di libertà e di aggregazione. Quindi anche uno spazio in cui poter avere attività sportive, ludiche, ricreative, culturali. Insomma, veramente un polmone verde, ma anche un polmone di socialità per la città di Fano, di cui la nostra comunità aveva assolutamente bisogno. E questa è una scelta che in qualche modo può influire anche nella ridefinizione degli spazi pubblici e quindi dell'identità della città di Fano. E questa è la grande sfida dei prossimi anni.